La bassa formazione, le scarse competenze, le competenze inadeguate unite a un contesto inefficiente determinano bassi saradi e quindi scarsa produttività. Il nodo è la produttività, per aumentare la produttività bisogna varare le riforme di sistema, giustizia, fisco, infrastrutture, competenze, formazione, semplificazione burocratica e normativa. Allo stesso tempo io sono convinta che sia necessario introdurre una ritribuzione minima contrattuale perché non è degno di un paese civile avere salari da 4-5 euro l'ora.